MIGI SPORTI DI VIGINI E LONTANI Bentornati su Auto Munirsi Continuiamo appunto la serie per ciò che riguarda il ripristino del grande punto Alcuni di voi nei commenti mi hanno chiesto come mai c'è una cucina componibile in questo box E un box è una cucina? Vivi in box? No, c'è semplicemente una cucina componibile in un box auto Normale, nulla da dire, no? Perfetto E' arrivato un pacco enorme Proveniente da non so dove, non mi ricordo Andiamo a spacchettarlo insieme quindi Così vediamo che cosa è arrivato effettivamente Con noi ovviamente c'è Gastone E' stato abbastanza difficoltoso in realtà portarlo qui Però dal colore si può già vedere, si può cominciare ad intuire Di che cosa si tratta Come avevamo accennato nell'altro video Stiamo parlando del portellone Ovviamente il gatto è fuggito via Per ovvi motivi Una cosa interessante è che io mi auguro che il vetro sia sano Un sacco di cartoni per proteggere tutto Sembra di sì Andiamo ad aprire dall'altra parte Allora qua c'è la parte superiore Ci sono delle spugne Finché il vetro si preservasse durante il trasporto È particolarmente sporco Ma va bene, non è un problema Tanto andrà riverniciato Tieni, questo è per te Fanne buon uso Un cacchio lo apriamo adesso Io direi di fare un'operazione malata Cioè Prendiamo il cartone cabrio E amen Vuolta per tutte Così Esatto Et voilà Le portellone Si vede, dai Pensavo peggio Allora Questo è il primo pezzo Di un lungo passo I cavi sono stati malamente tranciati Ovviamente Non mi aspettavo Diversamente Questo è il portellone Che abbiamo Recuperato Quindi questo sarà il primo tassello Fondamentale per Iniziare a dare la grande punta Una parvenza Di automobile C'è un piccolo Bozzetto però Tutto sommato Sembra sano Mettiamo in pausa E lo laviamo Avrà per Vedete Avere un lavandino vicino Soprattutto In un box Può tornare anche utile Alle volte Anche per questi Piccoli servizi Così come avere un fornello Magari tu sei impegnato A fare dei piccoli lavori Di manutenzione Bricolaci Eccetera eccetera Cosa fai Cosa non fai Senza dover andare a casa Ti prepari qualcosa da mangiare Visto che comunque La cucina sarebbe anche operativa Alla fine della gioste Però E' una comodità Diciamo che Limita lo spazio Dovrebbe essere un box auto In teoria questo Limita un pochino Effettivamente la capacità Di Stivare veicoli Di parcheggiare veicoli Per la notte Però Hanno voluto così Per cui Amen Perfetto amici sportivi Questo è il portellone Diciamo ripulito Data una sciacquata Rapida rapida Tanto Verrà comunque Intanto Adesso riaddobbato Per essere piazzato sulla macchina Tanto per cominciare E in secondo luogo Verrà poi verniciato Mi fa piacere comunque Che abbia Il terzo stop Perché solamente per quello In genere chiedono Dalle 25 Alle 40 euro Quindi Va bene Manca la seratura Manca la spazzola Ma tanto A grande punto Non ce l'ha Il fregio Ce l'ho Quindi Bisogna solo ripristinare Un pochino di Impiantistica Recuperare La pellicola oscurante Dall'altro vetro Perché tanto E E Elettrostatica E Il pannello Che più E la seratura I pistoncini Ovviamente Lasceremo i suoi Perché sono ancora funzionanti E ripassare un pochino L'impianto elettrico Perché qui So se si può vedere Però Giusto due No Non si vedrà mai Però ci sono Ve lo dico io Ci sono giusto due fili E il tubicino In gomma Dello spruzzatore Quindi ci sono solamente I fili dello stop In vale di ricordare Marrone e nero Si dovrebbero essere I fili della luce di stop E non c'è altro Basta Va bene Detto ciò Io vi ringrazio per la visione Ci vediamo alla prossima Ciao Gastone Dove sei finito Gastone Io fossi voi Non mi meraviglierei Tanto di una cucina Componibile All'interno del box Quanto Della doccia Che è presente Ebbene sì